aiuto aiuto povero me non c'è nessuno che viene a salvarmi ma chi vuoi che ti salvi disgraziato chi è che parla così sono un povero tonno inghiottito dal pesce cane insieme con te e tu che pesce sei io non ho nulla a vedere quei pesci io sono un burattino e allora se non sei un pesce perché ti sei fatto inghiottire dal mostro non sono io che mi sono fatto inghiottire gli è lui che mi ha inghiottito e ora che cosa dobbiamo fare noi qui al buio rassegnarsi aspettare che il pesce cane ci abbia digeriti tutte e due ma io non voglio essere digerito urlò Pinocchio ricominciando a piangere neppur io vorrei essere digerito ma quando si nasce tonni c'è più dignità morire sott'acqua che sott'olio cioccherie disse Pinocchio ma è molto grosso questo pesce cane che ci ha inghiottiti figurati disse il tonno che il suo corpo è più lungo di un chilometro senza contare la coda nel tempo che facevano queste conversazioni al buio parvi a Pinocchio di vedere lontano lontano una specie di chiarore che sarà mai quel lumicino lontano lontano Pinocchio cacciò fuori un grido di gioia e spalancando le braccia e gettandosi al collo del vecchietto cominciò a urlare bambino mio finalmente vi ho ritrovato ora non vi lascio più mai più mai più dunque gli occhi mi dicono il vero disse Geppetto dunque tu sei proprio il mio caro Pinocchio sì sì sono io proprio io ma se sapeste quante disgrazie mi sono piovute sul capo e quante cose mi sono andate di traverso figuratevi che il giorno che voi povero bambino col vendere la vostra casacca mi compraste l'abbecedario per andare a scuola io scappai a vedere i burattini uscì fuori il burattinaio un omone così brutto che metteva paura solo a guardarlo perché se è venuto a mettere lo scompiglio nel mio teatro domandò il burattinaio a Pinocchio con un vocione d'orco la creda illustrissimo la colpa non è stata mia basta così stasera faremo i conti di fatti finita la recita della commedia il burattinaio andò in cucina dove si era preparato percina un bel montone che girava lentamente infilato nello spiedo e poiché gli mancava legna per finirlo di cuocere e rosolare chiamò Arlecchino e Pulcinella e disse loro portatemi di qua quel burattino che troverete attaccato al chiodo mi pare un burattino fatto di un legno molto asciutto sono sicuro che a buttarlo sul fuoco mi darà una bellissima fiammata all'arrosto il burattinaio Mangiafuoco che questo era il suo nome pareva un uomo spaventoso il tuo babbo e la tua mamma sono sempre vivi domandò Mangiafuoco il babbo sì la mamma non l'ho mai conosciuta chissà che dispiacere sarebbe per il tuo vecchio padre se ti facessi adesso gettare tra i carboni ardenti povero vecchio io lo compatisco e ci e ci e ci e fece altri tre starnuti felicità disse Pinocchio grazie del resto bisogna compatire anche me perché come vedi non ho più legna per finir di cuocere quel montone arrosto e tu dico la verità in questo caso mi avresti fatto un gran comodo ma ormai mi sono impietosito e ci vuol pazienza invece di te metterò a bruciare sotto lo spiedo qualche altro burattino della mia compagnia olà giandarmi a questo comando comparvero subito due giandarmi di legno lunghi lunghi secchi secchi con la sciabala sfoderata nelle mani pigliatemi lì quell'arlecchino legatelo bene poi gettatelo a bruciare nel fuoco io voglio che il mio montone sia ben arrostito Pinocchio alla vista di quello spettacolo straziante andò a gettarsi ai piedi del burattinaio e piangendo dirottamente cominciò a dire con voce supplichevole pietà signor mangio fuoco qui non ci sono signori disse il burattinaio pietà signor cavaliere qui non ci sono cavalieri pietà signor commendatore qui non ci sono commendatori pietà eccellenza a sentirsi chiamare eccellenza il burattinaio fece subito il bocchino tondo tondo e diventato tutto un tratto più umano e trattabile disse a Pinocchio bene cosa vuoi da me vi domando grazie eccellenza per il vostro povero arlecchino qui non c'è grazia che tenga se ho risparmiato a te bisogna che faccia mettere al fuoco lui in questo caso disse fieramente Pinocchio avanti signori giandarmi legatemi gettatemi tra le fiamme no non è giusto che il povero arlecchino il mio vero amico debba morire per me queste parole pronunciate a voce alta e con accento da eroe fecero piangere tutti i burattini gli stessi giandarmi sebbene fossero di legno piangevano come due agnelli di latte mangia fuoco sul principio restò duro immobile come un pezzo di ghiaccio poi ad agio ad agio cominciò anche lui a commuoversi a starnutire e fatti quattro cinque starnuti aprì affettuosamente le braccia e disse a Pinocchio tu sei un gran bravo ragazzo vieni da me dammi un bacio la grazia è fatta pazienza per stasera mi rassegnerò a mangiare il montone mezzo crudo ma un'altra volta guai a chi tocca alla notizia della grazia ottenuta i burattini corsero tutti sul palcoscenico e cominciarono a saltare a ballare era l'alba e ballavano ancora e il giorno di poi mangia fuoco chiamò in disparte Pinocchio e domandò a Pinocchio come si chiama il tuo babbo si chiama Geppetto e che mestiere fa fa il povero disse Pinocchio e guadagna molto Pinocchio e guadagna molto e allora Pinocchio figurandosi da percoraggio si avvicinò a pochi passi di distanza e facendo una vocina dolce insinuante e sottile disse al serpente scusi signor serpente mi farebbe il piacere di tirarsi un pochino da una parte tanto da lasciarmi passare fu lo stesso che dire al muro nessuno si mosse deve sapere signor serpente che io vado a casa dove c'è il mio babbo che mi aspetta che tanto tempo che non lo vedo più si contenti dunque che io seguiti per la mia strada a 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